Si recherà in carcere domani il console italiano a Jedda, Simone Petroni, per incontrare Ilaria De Rosa, l'hostess di Resana arrestata in Arabia Saudita agli inizi di maggio. Le autorità locali hanno concesso nelle scorse ore il permesso al console di visitare la 23enne trevigiana rinchiusa in un penitenziario nei pressi della città. Il diplomatico potrà in questo modo verificare di persona le condizioni della ragazza e ascoltare da lei il racconto di quello che è successo quella sera. Allo stesso modo il ministro degli esteri Antonio Tajani è interessato del caso l'ambasciatore italiano a Riad, Roberto Cantone. Pare che la ragazza, al termine di una festa per il Ramadan, sia salita in macchina con dei giovani tunisini, uno dei quali, stando ai controlli effettuati dalla polizia locale, aveva con sé dell'Hashish. La vicenda è seguita da vicino dal deputato trevigiano Dimitri Cohen, membro della Commissione Affari Esteri della Camera. Ho già preso contatti in via informale e allo stesso tempo anche riservata con la farnesina dei giorni scorsi dove appunto di questo caso si stanno interessando, però le informazioni che ci sono sono o comunque poche e comunque anche quelle poche sono abbastanza riservate data la delicatezza. Il caso ha diversi aspetti ancora da chiarire, il principale dei quali è la responsabilità diretta o meno dell'hostess di Resana rispetto alle contestazioni delle autorità saudite. La sensazione mia personale è che davvero possa trattarsi di un trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Stiamo parlando comunque di una persona, una professionista che è formata per girare per il mondo e anche per andare in paesi come questo dove le regole sono completamente diverse dalle nostre. è probabile davvero che si tratti appunto di una situazione dove si sia trovata e si è estranea ai fatti che sembra vengano contestati perché per il momento da quel che so io non ci sono contestazioni ufficiali. A Castelminio di Resana e Bedelago familiari e parenti di Ilaria rimangono in silenziosa attesa. I vicini di casa sperano di rivederla presto. Spero almeno perché da come la conosco penso che è una brava persona. Il sindaco Stefano Bosa è in contatto costante con Marisa, la mamma di Ilaria e ribadisce la convinzione che la ragazza sia vittima di un equivoco. Lei probabilmente è entrata in questo gruppo di amici sentendo che la mamma e la sorella magari non c'entra nulla.